La consigliera del PD di Modica, Ivana Castello, torna sulla questione del debito con l'Enel, presentando un'interrogazione rivolta al sindaco Ignazio Abate. Il debito comunale verso l'Enel era da pagare in sei rate, in origine transatto è fatto ridurre di ben 3 milioni e mezzo di euro. Dopo aver pagato oltre il 90% dell'importo, l'amministrazione non sarebbe più stata in grado di pagare la quinta rata, corrispondente a poco meno di 630 mila euro. Questo avrebbe fatto perdere l'abbuono di 3 milioni e mezzo di euro precedentemente conseguito. Ivana Castello, capogruppo consigliare del PD, punta il dito su quello che lei definisce il lassismo dell'amministrazione modicana e contro le inevitabili conseguenze economiche. L'accordo con l'Enel risale al 2013, proprio per mano dell'attuale Giunta, che riuscì a far rateizzare il debito e a ridurlo di 3 milioni e mezzo di euro, passando da 19 a 16 milioni di euro da corrispondere in 5 rate. La prima di 13 milioni tondi da versare immediatamente, la seconda di un milione con scadenza a un mese e 20 giorni, la terza di circa 600 mila euro con scadenza al 30 novembre 2014, 10 mesi esatti dopo la seconda. Le tre restanti tutte di circa della medesima cifra di 600 mila euro, a distanza di un anno l'una dall'altra. Rate da corrispondere con puntualità appena alla decadenza dell'accordo. L'amministrazione, spiega Ivana Castello, ha fino ad oggi pagato puntualmente il 92,39% del debito, ma il mancato pagamento dell'ultima rata ha vanificato tutti gli sforzi e sono stati presentati gli ulteriori 3 milioni e mezzo di euro che erano stati abbonati. L'Enel, spiega la consigliera, avrebbe già più volte sollecitato, non avendo ricevuto né il pagamento dovuto a novembre del 2016, né una risposta ai solleciti. Di conseguenza è saltato l'accordo e tutto torna sulle spalle dei modicani. Inoltre, spiega la Castello, tra il 2014 e il 2017, su 20 milioni e passa di spesa per l'energia elettrica, il Comune di Modica avrebbe pagato appena 100.993 euro, debiti su debiti, dunque anche con la Cassa Depositi e Prestiti, e a quelli corrisposti.